Quali sono le due carte in anteprima mondiale per Keyforge? Che impatto avranno sul gioco e a quali casi apparterranno? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale, la Ghost Galaxy, casa produttrice del nostro amato gioco di mazzi unici al mondo, ha dato inizio alla nuova raccolta fondi per il set Green Reminder, settimo capitolo che vede gli eroi del crogiolo scendere di nuovo in campo, pronti a darsi battaglia per ambre, ricchezza, sapere e gloria. In questo set si passerà dalle caotiche bancarelle mercantili di venti di scambio alle tenebrose terre dell'orrore, dove un male attende silente, pronto ad agguantarvi l'anima appena abbasserete la guardia. E no, non sto parlando dei dis, i demoni violacei che abitano il sottosuolo, ma dei gestoid, degli esseri partoriti dal più cupo degli incubi che infestano manieri e vagano in pena senza meta tra le lande più buie del crogiolo. Ma non voglio anticiparvi nulla, anche perché di novità ce ne saranno in questa espansione, dato che oltre alla dodicesima casa apparsa sul pianeta al centro dell'universo, anche nuove parole chiave ed un icona bonus faranno la loro comparsa per arricchire ancora di più le dinamiche di questo LCG. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno le due carte in anteprima mondiale per il settimo set di Keyforge, Green Reminder. Andiamo a dargli un'occhiata. Prima di parlarvi delle due anteprime, volevo porre un piccolo accento a cosa di nuovo arriverà con Grimm, partendo proprio dalla rotazione delle case, che vedranno la Repubblica Sauriana e Sanctum venire sostituiti dai Selvaggi, che torneranno dopo un singolo set di fermo e, come già accennato, la fantasmagorica dodicesima casata che farà la sua apparizione, ovvero i Gestoid. Questo gruppo di creature vedrà tra le sue fila ectoplasmi e terrori di ogni tipo, partendo dal semplice fantasma che dimora in una casa stregata al perfido spirito che si è impossessato di armi e marchigenni vari per mettere a ferre fuoco ogni cosa gli si pari innanzi. Ma non finisce qui, perché oltre a questi simpatici Casper arriveranno anche tre nuove parole chiave. Tracery, che vi permetterà di giocare una carta con questa keyword sotto il controllo avversario, Scrap, che vedrà l'innesco dell'abilità subito dopo che l'elemento in questione verrà posto nella pila degli scarti solo ed unicamente dalla mano, e Haunted, che rappresenterà una condizione di gioco che avrà luogo non appena si avranno dieci o più carte nel cimitero. Quest'ultima non avrà ripercussioni sul match se presa singolarmente, ma sarà utile ad altre carte presenti nel mazzo per innescarne le abilità. E Dulcis in fondo sarà introdotta una nuova icona bonus, ovvero Scarta, che una volta attivata manderà una carta a vostra scelta dalla mano alla pila degli scarti, anche se essa non apparterrà alla casa attiva. Abilità interessante, che si sposerà alla perfezione con l'appena menzionata parola chiave Scrap. Quindi dopo aver fatto luce su alcuni aspetti del nuovo set di Keyforge, passiamo alle anteprime, e per farlo dovremo recarci personalmente a Quantum City, capitale della Federazione Stellare, dove un membro degli esploratori ci darà il benvenuto. Il Corporal Bridger ci aspetterà a braccia aperte per arruolarci tra le fila degli stellari. Con forza pari a 4, una volta che verrà giocata o dopo che avrà raccolto o combattuto, vi consentirà di utilizzare una creatura non Federazione Stellare durante il vostro turno. Questo umano di sicuro avrà un impiego massivo in gioco, dato che di creature con abilità straordinariamente fastidiose ne è pieno il croggiolo, e quindi sono certo troverà spazio in un set che tra Spetrix, Enofobi Verdi e Giganti Infuocati darà una mano all'unico che utilizzerete per smantellare la bordo avversaria, o magari aiutandovi a forgiare la tanto agognata terza chiave, riuscendo così ad aprire la cripta dove il sapere immenso è custodito. Insomma, qui avrete un altro elemento alla Soggetto Kirby, che vi fornirà supporto quando ne avrete più bisogno, in situazioni che vi vedranno uscire vittoriosi, lì dove eravate dannatamente sfavoriti, un jolly da impiegare al momento più opportuno a seconda della situazione di gioco che vi ritroverete a dover gestire. Ora, raccogliamo il coraggio a due mani e dirigiamoci verso le Tenebre, dove la nuova casata con le sue insidie ci sta aspettando. Apparterrà infatti ai Gastoid, la carta che vi so per mostrare e che posso assicurarvi avrà un impatto davvero devastante per gli avversari che incontrerete se utilizzata al momento giusto. Veil of Ectoplasm sarà un'azione che una volta giocata vi consentirà di catturare ambre rivali da posizionare su una vostra creatura per ogni carta Gastoid presente nella pila degli scarti. Quindi, ipoteticamente, potrete catturare massimo 11 ambre se avrete il 99% della casata dagli spiriti malvaggi nel cimitero, rendendo più difficile per l'avversario il poter forgiare una chiave. Ma c'è un ma! Chi vi giocherà contro di sicuro non resterà a guardare mentre voi fate il bello e cattivo tempo con ogni pietruzza che faticosamente ha accumulato e, potete starne certi, cercherà di fare tutto ciò che sarà in suo potere per poterne rientrare in possesso. A questo punto, quindi, come potrete mettere ulteriormente i bastoni in mezzo alle ruote alla strategia di recupero rivale? In vostro aiuto ci saranno carte come la miglioria abissale Totswim, che impedirà a chi vi giocherà contro di infliggere danni alla creatura alleata se esso sarà dannato. L'azione equidiana Midhear Festivities, che se giocata vi permetterà di spostare tutte le ambre poste su un servitore, distruggendolo dopo il processo nella propria riserva, se ci saranno però nove o più creature presenti sul vostro terreno. E l'allieno federale Triangular Newsome, che, schierandolo, dopo che avrà raccolto, riproporrà la stessa abilità della festività dei Compact, questa volta senza distruggere l'obiettivo dell'effetto. Ok, Arconte, ma quanto ci vorrà prima che un forgiatore acquisisca lo status di dannato? Lo si potrà essere già dal primo turno, grazie a carte come Buh, che farà scartare ad un giocatore a scelta 10 carte dalla cima del mazzo, o Tecnoarachnofobia, che in questo caso designerà voi come bersaglio dell'effetto, con la possibilità però di rubare due ambre dall'avversario se nel procedimento ci saranno 5 o più carte appartenenti alla stessa casa. Quindi, come avete potuto vedere, non sarà neanche tanto difficile avere diversi membri dei guestoid nella pila degli scarti per far girare al meglio l'azione che vi permetterà di prosciugare, letteralmente, le risorse avversarie. Ed attraverso i supporti appena menzionati, darete del gran filo da torcere al forgiatore che vi si ritroverà contro, calcolando poi che, in un gioco dove lo slogan è letteralmente «Tutto è possibile», non oso immaginare un Sixamper eredità inaccoppiata proprio con Veil. Una cosa è più che certa, se sarete degli appassionati dell'horror, questo set farà per voi, e attraverso le terribili lande funeste dove il male dimora, numerose saranno le cripte che vi attenderanno, pronte per essere aperte con le tre chiavi che solo con le ambre che i vostri servitori raccoglieranno riuscirete a forgiare. Per restare aggiornati sugli spoiler di questa incredibile espansione e tutto ciò che nasconderà, vi consiglio di visitare la pagina web di Arkon Arcana e gli aggiornamenti divulgati dalla Ghost Galaxy in persona sulla piattaforma GameFound, dove è stata anche promossa la nuova campagna di raccolta fondi che vedrà proprio Green Reminders essere il protagonista. Quindi coraggio forgiatori, supportate il crowdfunding per vedere tornare Keyforge sui tavoli dei vostri centri ludici di fiducia più forte e giocato di prima. Troverete tutti i link delle fonti appena menzionate, come sempre, in descrizione. La dodicesima casa di Keyforge vi aspetta nella sua landa funesta, miei cari forgiatori. Entrate pure nel loro territorio e tenete gli occhi ben aperti. Come dice un detto molto popolare tra i cacciatori di fantasmi qui sul Crogiolo, non vedrete mai arrivare un guestoid, ma lui vedrà voi! Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.